Buongiorno a Michele Scusate, il fotografo ufficiale è stato davanti, quindi non cerco di dare il buono fastidio possibile Allora, premiazione danza Novis, primo posto Sara Ghislandi Lorenzo Giosi Bravi 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 Sara, metti la medaglia Lo riabbasso Bravi Bravi Secondi classificati Federica Madaschi Alessio Galli Grazie Grazie Applausi Terzi classificati Maddalena Rossignoli Samuele Rossignoli Buongiorno a tutti Grazie Applausi Quarti classificati Sara Baldelli Diego Lui Buongiorno a tutti Buongiorno a tutti Grazie 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 Buongiorno a tutti Grazie Buongiorno a tutti Grazie Grazie Grazie.